bilancia credo che questo sia il momento per conoscervi meglio prima di dare un'opportunità a questa relazione a questo possibile rapporto il consiglio infatti è proprio quello di dedicare del tempo all'altra persona perché l'altra persona è ancora indecisa non sa esattamente cosa vuole non sa esattamente cosa fare non sa se tornare da voi in forma di partner o meno credo che ci siano appunto delle cose che dovete scoprire l'uno dell'altro prima di potervi avvicinare prima di poter portare avanti quest'unione se avete l'opportunità di comunicare a distanza fatelo se invece vi state frequentando come amici ecco approfittate di queste occasioni per parlare e se invece in questo momento siete assolutamente in una condizione di pausa e di stacco dedicate del tempo a ciò che secondo voi dovete migliorare di voi stessi per essere in una relazione per farlo in modo sano ed equilibrato